Sono a Shibuya, sono le 7 di sera e vi faccio vedere Hachiko, il punto dove la gente si ritrova Praticamente quando ci si vuole trovare tra amici a Shibuya, questo è il posto più famoso dove c'è la stato del cane Hachiko Allora vedete qua c'è tutto... c'è un po' di casino E vedete tutte queste persone ferme, sono tutte persone che stanno aspettando qualcuno Ci sono andati tutti appuntamento qua Adesso vi faccio vedere anche qua dove c'è la stato del cane E' un po' un casino passare perché stasera c'è un po' di caos Vedete tutta sta gente? Sono tutti qua a aspettare i propri amici Vi faccio vedere la stato del cane Questa è la stato del cane Hachiko E questi sono tutti quelli che stanno aspettando qualcuno Non so se avete capito ma è un bel problema qua trovarsi Perché bisogna metterci d'accordo bene bene Tipo questi qua magari sono andati appuntamento ad Hachiko Ma il cartello verde, che ne so Questi invece ha la mappa Quelli laggiù dove c'è il trenino Capito? Perché sennò è un casino trovarsi Cioè c'è troppo caos Ci trovano tutti qua Chiaramente è un problema Ok adesso questo video di Hachiko è finito E adesso vi faccio vedere il video dell'attraversamento di Shibuya L'incrocio pedonale più famoso del mondo penso Guardatevi l'altro video, ciao! Ciao! Ciao!